Ciao a tutti gente, io sono Perginese, faccio questo breve video per ringraziare un po' tutti tutti voi che vi siete iscritti, che avete guardato i miei video, avete commentato, avete lasciato un mi piace, avete anche condiviso molto devo dire che il mio canale è cresciuto tantissimo negli ultimi 20 giorni, ho fatto più o meno 1000 qualcosa iscritti in un mese questo diciamo è il video speciale 1000 iscritti, sarà molto breve ma voglio dire un paio di cose volevo di nuovo ringraziarvi per il supporto che state dando al mio canale perché io ho fatto il mio primo video a marzo del 2016 e fino a più o meno giugno, inizio luglio avevo sieno 200 iscritti, adesso mi ritrovo con 1500-1600 iscritti è davvero tantissimo quindi ringrazio tutti voi che state guardando i miei video e li commentate ho ricevuto anche alcune critiche su un paio di video, sono state molto costruttive, ho cercato di rispondere, di spiegare perché ho fatto determinate scelte e mi servirà non sicuramente per migliorarmi nel tempo inoltre volevo fare un ringraziamento speciale a MillieBillieDoo che mi ha fatto questa stupenda fanart davvero la ringrazio moltissimo, quando l'ho vista assolutamente sono rimasto stupefatto, non me l'aspettavo proprio ed è molto bella, mi piace molto e quindi volevo ringraziarla, in più faccio un rapido saluto a Miguel, Iam e Daniel che mi hanno chiesto di essere salutati in un video nei commenti infine volevo proporvi un paio di cose, mi piacerebbe entrare in contatto con voi anche all'esterno di Youtube quindi magari attraverso Twitter o Instagram a seconda di dove preferite contattarmi o magari fare un canale Telegram dove vi condivido notizie sul cinema, sui fumetti, cose interessanti, video giusto per entrare in contatto con voi anche in modo diretto, oltre che nei commenti sotto i video Youtube ditemi voi che cosa ne pensate di queste idee, se vi piacerebbe un canale Telegram, se vale la pena che lo faccia io davvero vi ringrazio ancora per tutto il supporto che sto ricevendo in questi giorni ringrazio anche tutti voi che siete arrivati in fondo a questo video che magari non ve ne frega assolutamente niente ma vabbè grazie allo stesso e ci vediamo tra qualche giorno con il prossimo video, ciao a tutti